Scatman's World Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano Finalmente Microsoft Fly Il nuovo Fly Simulator è qui Cioè, sono un ho gasato di più Veramente è un momento da 6 anni che aspettavo sto gioco E sono veramente gasato al massimo Ma io ho fatto qualche tutorial, qualcosa per vedere un attimo il gioco Col Sub poi, quindi anche il Sub si è appassionato Adesso ci facciamo video insieme, roba E anche al Sub, insomma, è piaciuto tantissimo sto gioco Comunque volevo far vedere un attimo Intanto, belle opzioni Tutto chiaramente super a cannone Perché se no, cioè, non si può giocare Se non è tutto super a cannone E vai Per il momento ho messo Arcade così Per far vedere un attimo il gioco Piano piano farò dei video con i vari gradi di simulazione Per far vedere un po' come cambia Che se comunque, ragazzi, anche ad Arcade Non è facile O quantomeno per un Nabbo come me non è facile Allora, adesso volevo far vedere un attimo Allora, questa, diciamo, è l'isola principale Che sembra piccola, ma sicuro ho fatto un volo con Sub Cioè, per arrivare da questo aeroporto a questo Ci abbiamo messo più di mezz'ora Quindi è veramente, è veramente grande E queste invece sono le isole aggiuntive Che adesso mi devo anche comprare Per avere, per avere un, insomma, lo scenario più, più grande Allora qua puoi fare le attività Praticamente le attività Sono delle missioni, diciamo Adesso non so ancora bene come sono strutturati Sono questi tutorial qua, però Cioè, diciamo, non è questa La modalità principale come poteva essere Con l'altro Fly Simulator Adesso Da quello che ho capito Che veramente era poco che ci sto giocando E quindi ho capito veramente poco Qua, ecco, per esempio Vai qua, annuncio lavoro Tu praticamente Devi cominciare una carriera da pilota Infatti se Se notate bene Sul profilo pilota Ci sono queste statistiche Cioè, per esempio Passeggeri felici Quanti passeggeri sono felici Passeggeri spaventati Nauseati Addirittura puoi far vomitare i passeggeri E quanti nei soccorsi E soprattutto Poi, da quello che ho capito Poi addirittura Portare Delle merce Se non lo so Sinceramente Vediamo un attimo Se ti spiega qualcosa Ecco Praticamente ti spiega Quanto Quanto carico hai danneggiato In quella missione Addirittura Clandestino Che cazzo è? Peso totale del carico Clandestino addirittura No, vale, incredibile Qua puoi cambiare un po' La visuale L'avatar del pilota E Abbiamo tutti gli obiettivi Le robe solite Regi scena Non c'è di cocco Ho vinto Ragazzi Cioè Sono un figo Non ci posso fare niente Ma ci sono gli hangar Ecco gli airi sono due Puoi cambiare anche i colori Le robe C'è la benzina Che devi fare il rifornimento Tra un aeroporto e l'altro Se no Muori in maniera indegna Precipiti Questo aereo Dove scaricarlo Che è bellissimo Il Maul M7 Vaffanculo L'Oryon Però 1800 Microsoft Point Che non è poco E poi c'è questo Che è il P51 Mustang Base Noi andiamo con Beh andiamo con questo qua Dai Così Selezionare un mobile Ecco C'è C'è la sessione di rete Che ho fatto prima col sub E qua praticamente Mentre ti sposti l'aero Dove vuoi E puoi partire Da dove vuoi Ecco Adesso per esempio Voglio partire Partiamo da qua Io clicco su decolla E parto dall'aeroporto Da fermo Se invece Come si dice Vado dove Ciao ragazzi Ormai sono le 5 di mattina Cioè dovete capire Che sono abbastanza Ricoglionita Se Se invece vai su volo libero Se non schiacci da decolla Parti da Da quella zona Però in volo Beh io però Onestamente ragazzi Basta con Le spiegazioni Andiamo a giocare Oh raga Eccoci qua Finalmente Dopo 6 anni In game Sul nuovo Fly Simulator Graficona Graficona Incredibile Sono in modalità arcade Quindi ragazzi Cioè Magari più avanti Faccio una recensione Una recensione Parola grossa Cerco di spiegare un attimo Com'è il gioco Con la simulazione Al massimo Con tutti i danni Le robe Carburante Cazzate varie Perché Adesso vorrei un attimo Provare Vorrei far vedere un po' Com'è la grafica E basta Non vediamo Se riesco anche Ad atterrare Ma Non Marco Non pretendere troppo Cioè Alla fine Non bisogna pretendere troppo Ok Se vediamo un attimo Il paesaggio Il carrello Va giù Ah ok Buono Questa è la grafica esterna E teniamoci Il carrello basso Perché no Così almeno Eccoci qua Eccoci qua Buono Cioè L'attivate La differenza Rispetto Rispetto Al fly simulator Del giro del mondo Cioè ragazzi Effetti Pup up Spariti Cioè Non c'è più un cazzo Effetti di luce Ombre Tutto un altro gioco Perché in realtà È vero che non ha Tutti i scenari del mondo Per il momento Solo La mappetta Però Cioè È un bel vedere Cazzo È veramente un bel vedere Adesso le cerchiamo Di atterrare Vediamo un attimo qua Facciamo un giretto Perché purtroppo È tardissimo ragazzi Sono le 6 Cioè Vero fare proprio Un video veloce Proprio per introdurre Sto Sto gioco Che Veramente Non so quanto Sei anni Cazzo Sei anni di attesa Eccolo qua Buono Dai Giriamo Con le mie manovre Sempre cumendiane Possiamo perdere Mamma mia Che disastro Che disastro Che disastro di uomo Che sono Ok Il carrello è attivo Ok Buono Andiamo Primo Primo atterraggio Lo 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 Eh Sono veloci Che cazzo faccio Che sono velocissimo Pirla Pirla Sei un pirla Cumendone Sei un pirla Sei Sei un pirlone 69 Forse ci sono Dai vediamo Quest'è la maria Un po' più facile Vai Vai Oh No ragazzi Cioè Ragazzi Veramente Solo perché arcade Però Primo atterraggio Me lo godo Grande Cumenda Va beh ragazzi Dai Ho fatto un video Così un po' veloce Intanto per dare un po' Un'introduzione del gioco Con il menu Un attimo la grafica Ma adesso Veramente Un bombardamento di video E soprattutto insieme al sub Che si è appassionato Che abbiamo giocato prima insieme L'abbiamo provato insieme E anche Con saburo Ci spariamo un po' di video A cazzeggio Buono raga Buonanotte Anzi Buongiorno E E niente Sono Se mi sentite Un po' giù Perché Devo parlare piano Perché purtroppo Alle 6 di mattina Non posso urlare O fare il coglione Come al solito Buono ragazzi Alla prossima Ciao raga Ciao raga Ciao raga